se vuoi portarlo tu io facciamo il cambio dopo stiamo cominciando a portarlo scusa abbiamo qua la ciclofficina Riccardo Bosio ciao noi ci siamo già conosciuti in occasione del Giro d'Italia però non tutti sul canale forse ti hanno visto benissimo per cui voi siete? io sono uno degli operatori della ciclofficina sociale che è un laboratorio ciclomeccanico di riparazione, vendita, biciclette dentro, presso la stazione Ferrovie Nord di Cormano Cusano dal lato di Cusano sul binario 1 e oltre a riparare bici il nostro progetto è un progetto di inclusione sociolavorativa quindi coinvolgiamo anche persone che hanno una condizione di fragilità utilizzando la ciclomeccanica per insegnarli il lavoro e coinvolgerli, renderli impegnati coinvolgerli e includerli vuol dire che se io la bicicletta rotta e vengo ad aggiustarla da voi oltre ad avere un servizio almeno di pari valore e pari costo anche aiuto il nord di Milano aiuto le persone in difficoltà aiuto qualcuno che trova lavoro che difficilmente altrimenti avrebbe potuto professionalizzarsi? assolutamente sostenendo il nostro progetto portando le bici a riparare si sostiene questa parte sociale in più il nostro progetto, il nostro spazio è anche aperto comunque a tutti i cittadini che appunto uno vuole riparare la bici ma vuole anche imparare un po' ad aggiustarsela noi siamo ben contenti di insegnare a chiunque voglia imparare appunto l'arte della manutenzione della bicicletta a farlo complimenti, un progetto splendido grazie a voi grazie sempre un piacere